Pattugliamenti speciali a Venezia da parte dei carabinieri e della Guardia Civil Spagnola. L'iniziativa, abbiata sabato scorso ma collaudata da anni, permetterà ai turisti di lingua spagnola, in questo caso, di usufruire di un ausilio linguistico grazie a un militare della Guardia Spagnola, che pattuglia le calli veneziane insieme ai colleghi dell'arma. La Guardia Civil è una forza di polizia statuto militare con cui i carabinieri sono legati da rapporti di cooperazione risalenti nel tempo, rinsaldati anche grazie alle esperienze maturate in numerose attività condotte fuori dai confini nazionali. Non solo, quest'anno il Monastero di San Zaccaria, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, ospiterà anche un rappresentante della Gendarmeria Nazionale Francese in agosto e uno della Guardia Nazionale Repubblicana Portoghese a settembre.